E' pur vero che il codice della strada vieta la circolazione degli skateboard, l'uso in strada e nelle aree pedonali e che è altrettanto giusto che la Polizia Municipale abbia sanzionato i giovani sorpresi sulla carreggiata delle strade. Ma non si può trascurare che questa città non destina spazi ai giovani e che sebbene annunciato il progetto dello skatepark è in attesa di realizzazione. A poche ore, dalla notizia che ha avuto risalto mediatico della multa a quattro minorenni skaters che non avevano altra colpa di dare sfogo ad una passione, quella di farsi scivolare su quattro ruote, il candidato al Consiglio Comunale di Salerno, Catello Lambiase del Movimento 5 Stelle, ha commentato l'accaduto. L'uso dello skateboard è consentito solo all'interno delle aree attrezzate e nelle aree private e qualora l'uso degli skate comporti danni al patrimonio urbano, pavimentazione, marmi e panchine, gli autori sono tenuti al risarcimento e a una multa. E così è stato, ma un'amministrazione degna di tal nome dovrebbe essere in grado di farsi un serio esame di coscienza ed autosanzionarsi perché di fatto non ha messo in atto quanto annunciato. Niente da dire con la Polizia Municipale che ha attuato solo la legge. L'articolo 190 del Codice della Strada impedisce agli skaters di utilizzare luoghi che potrebbero essere pericolosi. Ma io la multa, forse nell'amministrazione comunale, me la farei a me stesso perché se in tanti anni non si riesce a trovare un posto adeguato a far sì che questi ragazzi possano volteggiare e fare ciò che vogliono, cioè fare sport all'aria aperta, sinceramente la colpa non è dei ragazzi quando invece dell'amministrazione comunale. Questi sono i cosiddetti spazi dei desideri, cioè è uno spazio quasi di resilienza. C'è un ragazzo che vuole fare questo sport, non trova il posto dove farlo e quindi se lo immagina. Alla fine sono stati multati dei ragazzi in un posto in cui tutto sommato una strada chiusa e non per colpa loro, per colpa dell'amministrazione comunale perché quella strada doveva essere aperta, quando poi ci sono altre aree, Parco del Mercatello, lo stesso Parco Pinocchio che potrebbero essere adibite. Ecco, io sogno un'amministrazione comunale che faccia precedere gli atti alle promesse. La verità è che questo è uno sport che ha preso piede soprattutto negli ultimi tempi tra i ragazzini e ben venga il caso di dire perché per fortuna c'è la pratica di uno sport, si allontanano dagli smartphone su cui spesso vengono accusati e invece poi alla fine utilizzano rampe come Vianizza, così come il Grand Hotel e vengono multati. Noi ci troviamo ora proprio a Vianizzi in un altro dei posti cardine, stamattina non c'è nessuno probabilmente per la paura di essere multati. Diciamo sempre che i nostri ragazzi stanno davanti ai computer, questi ragazzi che invece vogliono fare attività non li mettiamo in condizione di non farlo, cioè questa è una resilienza, stanno cercando di fare niente di più. E mi chiedo ancora di più come l'amministrazione comunale faccia il forte con i deboli, con dei semplici ragazzi di 14 anni creando anche un problema in quelli che saranno gli elettori del futuro, che saranno i cittadini del futuro, quelli che dovranno avere cura della cosa pubblica, quando invece in altre parti della città la stessa amministrazione comunale ha tollerato dei sensi unici alternati fatti ad hoc per bypassare il traffico.